SIGILIA 24 SIGILIA 24 A Catania è arrestato un giovane che ha tentato per due volte di scippare la borsa a due donne direttamente dalla propria auto. Una delle vittime è traccinata a terra. A San Giovanni Galermo, a Catania, pericoli. Sono dietro l'angolo a partire dalle strade senza manutenzione mentre la pista ciclabile è ricoperta da cespugli. La Sicilia è tra le mette più gettonate per la Pasqua, strutture ricettive piene che fanno ben sperare per la stagione estiva. Calcio, la priorità del Catania è la salvezza. Domenica al Massimino arriva il Cerignola. I rossaggiurri serve una vittoria. Scaccia crisi. Buongiorno. Dopo l'impugnativa della finanziaria regionale arrivano anche i tagli agli investimenti in sanità. È un coro di no quello che si solleva dalla Sicilia al decreto fitto che rimodula i fondi del PNRR Sanità destinando una parte ai progetti energetici. Maglio Viola. Assi di spesa, oltre mezzo miliardo sulla misura verso un ospedale sicuro e sospenibile, mentre un taglio di 132 milioni avverrebbe nel programma Ecosistema Innovativo della Salute. Tagli minori lungo altri tre assi di spesa. Su quattro delle cinque misure la Sicilia ha previsto interventi. In particolare 49 milioni per la sicurezza e l'ammodernamento degli ospedali di prossimità, i più piccoli. Quasi 3 milioni per la rifunzionalizzazione energetica e sostenibile di ambulatori e strutture paraospedaliere. Poco meno di un milione e mezzo in progetti e attrezzature per l'assistenza domiciliare. Obiezioni sollevate durante il vertice online degli assessori alla salute di tutte le regioni, al quale ha preso parte anche la titolare della delega del governo Schifani, Giovanna Volo. Non si tratta solo di cancellare progetti. Lo stop a queste attività mette a rischio anche l'impianto complessivo degli investimenti in vista della riforma del sistema sanitario e azzopperebbe buona parte dei progetti già previsti e approvati dal governo nazionale, finanziati proprio col piano nazionale di ripresa e resilienza. Al ministro è stata avanzata richiesta formale di ritirare il decreto e stavolta la battaglia non è soltanto siciliana ma di tutte le regioni italiane. C'è una nuova pista per la strage di Altavilla Milica. Giovanni Barreca potrebbe essere stato drogato da Massimo Caredente e Sabrina Fina, i due santoni che lo avrebbero indotto a uccidere la moglie e i figli. Sentiamo Marco Gullà. Un lavoro incessante e minuzioso sulla strage di Altavilla, gli inquirenti Eris collaborano a Braccetto per capire chi ha avuto più responsabilità nella mattanza che c'è stata nella villetta degli orrori. Gli investigatori pensano che un ruolo fondamentale lo abbia avuto la coppia diabolica Massimo Caredente e Sabrina Fina. Sarebbero stati loro i registi della strage, secondo un'ultima pista che stanno percorrendo gli inquirenti. Il sospetto è che Giovanni Barreca possa essere stato drogato con qualche sostanza dalla coppia per indurlo a commettere gli omicidi. Era stato lui stesso a puntare il dito contro gli ex amici facendo intendere di essere stato stordito e manipolato. Aveva confessato di averli accompagnati alla stazione ferroviaria dopo la carneficina e poi avrebbe telefonato ai carabinieri per consegnarsi. Non ero in me, ero come imbambolato. Sabrina e Massimo mi hanno fatto bere qualcosa, ma entrambi si difendono e dicono di non essere stati presenti durante gli omicidi dei figli e di Antonella Salamone, moglie di Barreca. Dove sta la verità? Al setaccio. Ci sono i cellulari di tutti, anche della figlia di Barreca, che potrebbe aver avuto un ruolo primario nella strage. Gli interrogatori, previsti solamente quando saranno ultimati gli accertamenti sui telefoni e i computer, dovrebbero sicuramente fornire una nuova traccia su cosa è realmente successo in quei giorni nella casa di Altavilla Milica. Si teme anche in Italia per l'uso del fentanyl come droga sostitutiva dell'eroina. Per questo il governo Vara un piano di prevenzione e contrasto. Roberta Lunghi. Vogliamo muoverci in un'ottica di prevenzione. Parola d'ordine, prevenzione. Per evitare che in Italia si possa radicare il devastante fenomeno dell'uso improprio del fentanyl, farmaco fondamentale per le patologie del dolore, ma che può trasformarsi in strumento di morte se usato come sostitutivo dell'eroina, tendenza ormai consolidata negli Stati Uniti dove la droga degli zombie ha causato solo nel 2022 100.000 morti. Per questo il governo italiano Vara un piano per prevenire l'emergenza presentato a Palazzo Chigi, alla presenza tra gli altri del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano, e del ministro alla salute, Schillaci. Tra i punti essenziali della prevenzione, il monitoraggio dell'uso del fentanyl per evitare scopi non sanitari, l'attivazione di sistemi di allerta per prescrizioni anomale, i controlli del NAS dei carabinieri sulla distribuzione e maggiori misure di sicurezza nei luoghi di conservazione. Ma c'è anche la necessità di contrasto, in primis attraverso campagne di informazione, per capirne la pericolosità. L'uso di fentanyl come droga che a 2, a 3, a 4 milligrammi al giorno, come sostituto dell'eroina, può causare una grave intossicazione acuta e quindi depressione respiratoria, e morte per depressione respiratoria. Quello del fentanyl non è un traffico limitato agli Stati Uniti. In Unione Europea ci sono segnali in Portogallo e Gran Bretagna, ma l'interesse delle organizzazioni criminali è anche nel nostro paese. L'intelligenza segnala anche una certa elasticità e prontezza da parte di sudalizi criminali italiani, in particolare dell'Andrangheta, per recepire questa sostanza. Il pericolo però di una criminalizzazione del fentanyl a prescindere esiste, e qui il farmacologo ricorda che resta importante distinguerne l'uso. Va differenziato e tutelato l'uso dell'oppiaceo come analgesico, che non si deve discutere, e invece quello che sta facendo il Ministero, di quali siamo profondamente grati, che è l'analisi del rischio associato all'abuso. Il petanyl è arrestato un giovane che ha tentato per due volte di scippare la borsa a due donne direttamente dalla propria auto. In un'occasione una delle vittime è caduta a terra, procurandosi ferite. Simona Mazzone Si era escogitato lo Schippo Drive, un 24enne di Catania che nell'arco di alcuni minuti è diventato il terrore delle donne nel centro storico. Lo vedete in queste immagini, mentre nel tentativo di portare a termine il furto ai danni di una passante in via Mancini, angolo via Vasta, le afferra con violenza la borsa, mentre è alla guida di una piccola utilitaria col braccio sinistro fuori dal finestrino. La donna viene sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato. Per lei lesioni giudicate guaribili in sette giorni. E da mezz'ora passata la mezzanotte, trascorrono altri tre minuti e il 24enne si sposta in piazza Duomo, dove adocchia la sua prossima vittima, sempre restando a bordo della propria auto. Le si avvicina lentamente e cerca di improvviso di afferrarle la borsa. La vittima è riuscita fortunatamente a non perdere l'equilibrio. Lo scippatore pensava di averla fatta franca, ma attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono risaliti sia alla targa della macchina che al guidatore. Decisive anche le informazioni raccolte dai testimoni presenti al momento dei fatti. Il giovane è stato individuato e arrestato. Il GIP ha disposto nei confronti del 24enne gli arresti domiciliari per furto, tentato furto costrappo e lesioni personali. Per una vendetta trasversale, tre giovani, la notte del 3 marzo, a Palagonia, siamo nel Catanese, stavano per compiere un attento con un'auto rubata con a bordo due bombole di GPL. Hanno dato fuoco così vicino all'abitazione del centro storico. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, allertati da una telefonata, hanno attivato un non cordone sicurezza per i residenti della zona. Dalle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare e arrestare i tre giovani. E a Catania, alla sua periferia dimenticata, siamo andati a San Giovanni Galermo, un quartiere dove i pericoli sono dietro l'angolo. A partire dalle strade prive di manutenzione, c'è anche una pista ciclabile, che però è ricoperta dai cespugli. Tonino De Mana. Via Galermo Mulattiera. Pericolosa in auto, in moto e a piedi. Abbiamo sintetizzato il tutto perché sono tanti i messaggi alla nostra linea di WhatsApp, 342-74-55-005, che segnalano lo stato di abbandono di una strada che collega il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo alla circonvolazione di Catania. Un'arteria di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, ma che al tempo stesso non riceve le giuste attenzioni da parte dell'amministrazione comunale. Basta osservare l'asfalto per rendersene conto. Con buche ed avvallamenti che rappresentano un serio pericolo per tutti, in particolare per chi si avventura con un mezzo a due ruote. E non va meglio per i pedoni, costretti ad attraversare in punti dove le strisce sono sbiadite e dove il semaforo è inesistente, spento e addirittura fatiscente. Da queste parti gli incidenti sono all'ordine del giorno, anche mortali. E non va meglio tra le vie polveriera ed orsa minore. Tipico esempio di incrocio killer dopo un semaforo o dei dossi potrebbero in parte ridurre la pericolosità. Periferie dimenticate, come conferma il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. Abbiamo effettuato due consigli, di cui uno itinerante in via Virdimura. E purtroppo le risposte dell'amministrazione centrale non sono mai arrivate. Segnaletica orizzontale e verticale non presente, caditoie distrutte e rumorose. Quindi chiedo che l'amministrazione centrale si attivi immediatamente a risolvere queste problematiche ormai da circa sei anni presenti e segnalate continuamente dal Consiglio di Municipio. A San Giovanni Galermo non si vedono biciclette, eppure in via Virdimura c'è una pista ciclabile, sulle cui condizioni è meglio stendere un velo pietoso. Enormi cespugli invadono il tracciato, così gli amanti del pedale possono fare un bel giro, che di naturalistico però ha ben poco. Il 13 marzo del 1995 un ubilferaggio si abbatté sulla Sicilia nord-orientale, su parte della Calabria meridionale. I comuni più colpiti, Giarre e Acireale. Le prime ore del mattino le precipitazioni iniziarono a diventare molto intense. Le fognature cominciarono a allagare le strade di Acireale e anche quelle di Giarre, allagate intorno alle 9.15. Sei le vittime della furia dell'acqua e sette i feriti. La regione siciliana stabilizza 3.700 precari ASU, i cosiddetti lavoratori socialmente utili. Il Governo nazionale non ha impugnato la norma e quindi è stato possibile avviare la procedura. Sentiamo come sono state suddivise le assunzioni, provincia per provincia. Simona Mazzona Appartengono alla categoria dei cosiddetti precari storici. Sono gli ASU, ovvero i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Per loro un esercito di 3.700 persone, grandi novità, perché la regione siciliana ha firmato la norma che ne prevede la stabilizzazione. Il Governo isolano ha dovuto attendere le decisioni da Roma sulla legge di stabilità. La norma che riguarda questa categoria di precari approvata nell'ultima finanziaria regionale non è stata impugnata e quindi si è potuto procedere. Intanto gli uffici stanno predisponendo la circolare da inviare agli enti utilizzatori per velocizzare la fase di applicazione e avviare le procedure per la stabilizzazione. I lavoratori ASU dovranno poi presentare la domanda direttamente agli enti. Si chiude così un'altra pagina del precariato siciliano per 3.701 lavoratori. Il numero più alto di stabilizzati si registra a Messina con 1.258, quasi il 34% del totale. Seguono Palermo con 679, Agrigento con 547, Trapani 479, poi Ragusa con 241, Catania con 161 stabilizzati e Siracusa con 123. A Caltanissetta sono 114 ed infine a Enna 99. Con questo obiettivo raggiunto dopo la mancata impugnativa della norma sull'iter di stabilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha detto il Presidente Schifani, rendiamo la nostra regione più solida e ordinata, riconoscendo dignità e diritti a migliaia di lavoratori siciliani. Anche quest'anno la Sicilia è tra le mete più gettonate per la Pasqua, strutture ricettive piene e buone aspettative per la stagione estiva. Tra le città preferite, quelle d'arte. Siamo stati a Siracusa. Francesco Triolo. Prevedere che tempo farà Pasqua ancora è prematuro, ma quel che è certo è il boom di turisti. Una Pasqua un po' bassa, a fine marzo, ma che ci dà dei numeri importanti per una stagione che riteniamo possa essere sulla falsaria del 2023, quindi una stagione importante per il turismo siciliano. Qui siamo a Siracusa, Ortigio è tra le mete preferite. I vicoli cominciano a riempirsi. Da dove arriva? Da Milano. Prima volta in Sicilia? No, già la seconda volta qua. Infatti sono tornata perché mi piace troppo la terra nobile. Sono tornata in questo posto in cui mi è capitato già di venire altre volte. Ci sono tornata per portare chi conosco. What did you visit? On a visitate qua. Catania, Taormina, l'Etna. In questo hotel è quasi tutto pieno. Ok, solo un attimo che verifico. Momentaneamente siamo pieni. Avrebbe altre date? Ma sarà pienone in tutte le città d'arte. Da Palermo a Catania, passando per Agrigento. Nota positiva è anche l'aumento della permanenza media. Il turismo mordi e fugi sembra in calo. Quest'anno Pasqua arriva prima e arrivano prima gli ospiti. Abbiamo un buonissimo riscontro da parte della clientela straniera che ha superato il soggiorno medio di due notti. La Sicilia viene scelta anche per sei giorni più lunghi. Si va oltre i tre giorni, i tre pernottamenti. Sempre più turisti, numeri che valgono doppio, considerato il caro voli. Anche per questa Pasqua arrivare in Sicilia in aereo costerà centinaia di euro. Ma nonostante tutto, le presenze crescono sempre più. Si parlerà di enoturismo, di turismo legato al mondo del vino. A Sicilia 24 focus alle 14.30. In Sicilia cantine e vigneti diventano luoghi di esperienze di gusto, mentre nelle aziende cresce il ruolo delle donne e l'attività di ricerca. Ospiti di Adelaide Barbagallo, la presidente di Assovini in Sicilia, Merangela Cambria e l'enologa Maria Carella. Le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. È possibile seguire anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, breve pausa, altre notizie. Fra queste anche i giochi mondiali dello sport d'impresa. 30 discipline e 41 impianti tra Catania e provincia e oltre 3.000 iscritti in pochi giorni. Grandi numeri per i giochi mondiali dello sport d'impresa che si terranno dal 19 al 23 giugno. Questa mattina la presentazione a Palazzo degli Elefanti a Catania. Tonino De Mana. Il saluto del presidente del CONI, Giovanni Malagò e di Pippo Baudo. Due personaggi di caratura che da soli rendono l'idea dell'importanza dell'evento per la Sicilia in generale e per Catania in particolare. È stata presentata a Palazzo degli Elefanti la quinta edizione dei giochi mondiali dello sport d'impresa che si terranno ai piedi dell'Etna dal 19 al 23 giugno. A fare gli onori di casa il sindaco Trantino. Non solo la vetrina turistica ma anche l'attrattività imprenditoriale perché quando si parla di giochi aziendali si parla anche di grossi player che potrebbero venire a investire nel territorio catanese date le straordinarie opportunità che si stanno offrendo. Ricco il programma che prevede 30 discipline sportive e 3 paralimpiche, atletica, nuoto e tiro con l'arco. Migliaia di atleti si stima di superare il 5.000 presenze con le delegazioni provenienti dai 5 continenti pronti a sfidarsi in 41 impianti di Catania e provincia per un evento di portata universale in termini sportivi, culturali e turistici. Sport in impresa è un concetto molto importante perché mette insieme la dimensione sportiva e quella lavorativa delle persone e in questa doppia dimensione che viene coniugata si ha la possibilità di avvicinare veramente le persone e i popoli. L'ultima edizione si è disputata in Messico così Catania si appresta a prendere il testimone da Leon. Ieri sera davanti al Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di accensione delle tripode dell'amicizia. I gruppi folk che partecipano al Mandorlo in Fiore hanno lanciato un messaggio di solidarietà e fratellanza tra i popoli. Davide Sardo Nella Valle dei Templi di Agrigento, tra le colonne doriche millenarie del Tempio della Concordia, è stato rinnovato il messaggio di solidarietà e fratellanza tra i popoli che ogni anno, in occasione della festa del Mandorlo in Fiore, arde nel bracere della tripode dell'amicizia. Tutti i gruppi folk partecipanti sono giunti ai piedi del Tempio e hanno poggiato le fiaccole sulla tripode, alimentando la fiamma della Concordia e della pace. Viva questa festa! Viva la pace del mondo! Qui è bellissimo! La pace è qui al mondo! La pace del mondo! Siamo riusciti a far danzare insieme Russia e Ucraina, che sia di buona speranza per quello che sta succedendo intorno al mondo. Agrigento città della pace, dell'amicizia, della fratellanza, questo è lo spirito di questa festa. Sono 76 anni che lo rinnoviamo, quest'anno è ancora più forte perché è una vetrina, una vetrina meravigliosa proprio per quello che succederà nel 2025, aggrigento capitale italiana della cultura. L'accensione del tripode è l'atto più denso del significato della festa del mandorrinfiore, mai tanto attuale quanto adesso. Una novità, ciascun gruppo ha condotto dalla sua terra d'origine una manciata di terra e al Tempio della Concordia le terre di ciascun gruppo sono state mescolate e sulla terra mescolata è stato piantato un albero di olivo, storico simbolo di pace. Breve pausa e poi il calcio Catania. Eccoci al calcio, attenzione puntata sulla finale di Coppa Italia di mercoledì, però per il Catania c'è prima la sfida contro l'audace Cerignola da valutare le condizioni di Cianci e Cicerelli. Francesco Triolo. All'orizzonte la finale d'andata di Coppa Italia, la partita che oggi vale una stagione per il Catania, ma prima c'è da pensare al campionato, alla sfida di venerdì sera, 20 e 45, al Massimino contro l'audace Cerignola. Una gara che può dare slancio, soprattutto psicologico, in vista della gara di Padova. Zeoli sta cercando di dare la sua impronta contro il Potenza, non c'è stato esordio bis con la vittoria che magari qualcuno si aspettava, ma per adesso si lavora di giorno in giorno. Questa mattina la squadra rossa-azzura ha svolto la seduta di allenamento, domani è prevista la rifinitura e la conferenza stampa pre-gara dell'allenatore Etneo, dalla quale si potrà capire chi sono gli abili e arruolabili per la gara contro i pugliesi. Se da un lato, infatti, ritorna Teio dopo aver scontato la squalifica, sono due i giocatori sotto la lente d'osservazione dello staff tecnico e di quello medico. Si tratta intanto di Cianci, che ha rimediato un colpo in testa e occorre verificare le sue condizioni in vista della gara di venerdì. Quindi Cicerelli, che ha lamentato un indurimento muscolare nel corso della gara col Potenza, ma potrebbe essersi fermato in tempo e quindi tutto viene rinviato alle decisioni che arriveranno dopo aver valutato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Zeoli, naturalmente, spera di averle a disposizione, entrambi, almeno per la panchina, per poi poter contare su di loro nel match contro il Padova. Contro il Cerignola si dovrebbe andare in continuità, con l'idea tattica vista contro il Potenza, con il 4-3-3 che Zeoli ha schierato, anche se il tecnico ha lavorato anche sul 4-2-3-1, un'ipotesi da mettere in campo, anche a partita in corso. Io mi fermo qui, dopo di noi il Focus, oggi curato da Adelaide Barbagallo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.